Va ora in onda al culto evangelico della Chiesa Valdese. La predicazione di oggi è curata dalla pastora Milena Martinat. Cara ascoltatrice, caro ascoltatore, benvenuto, benvenuta questa mattina per il nostro culto. Iniziamo con una preghiera che ci viene da un credente filippino. Signore, la nostra comunità è come un campo di riso. Appena esso viene piantato appare in cespugli separati, ma quando le pianticelle hanno messo radice e sono cresciute, la divisione in cespuglia poco a poco sparisce e appare un vasto campo unito. Signore, donaci le radici dell'amore e facci crescere nella comunione e nella solidarietà affinché la tua volontà si compia nella nostra vita. E ti chiediamo di mandare il tuo spirito su di noi nell'ascolto della tua parola. Amen. la nostra comunità è come un campo di riso. Dio. 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 Luce e verità, sei la forza a cui m'affido nell'immensa tua bontà. Oggi è assolto questo grido della tua prevenza eterna. Sono il mio non ti scorda, sono la tua bontà paterna, vuol affanno mio verità. Quando l'ora del patir giungerà per me tuo figlio, tu mi aiuta nel soffrir, sì, mia morte è mio consiglio. Questa mattina leggiamo insieme dal Libro degli Atti degli Apostoli al capitolo 8, i versetti da 26 a 39. Un angelo del Signore parlò a Filippo così, alzati e va verso Mezzogiorno, sulla via che da Gerusalemme scende a Gaza. «Essa è una strada deserta». Egli si alzò e partì. Ed ecco un Etiope, Eunuco, e ministro di Candace, regina di Etiopia, sovraintendente a tutti i tesori di lei, venuto a Gerusalemme per adorare, e ora stava tornandosene seduto sul suo carro, leggendo il profeta Isaia. Lo Spirito disse a Filippo, «Avicinati, raggiungi quell'uomo sul suo carro». Filippo accorse, udì che quell'uomo leggeva il profeta Isaia, e gli disse, «Capisci quello che stai leggendo?» E lui rispose, «E come potrei se nessuno mi guida?» E invitò Filippo a salire e a sedersi accanto a lui. Ora, il passo della scrittura che egli leggeva era questo. «Egli è stato condotto al macello, come una pecora, e come un agnello che è muto davanti a colui che lo tosa, così egli non ha aperto la bocca. Nella sua umiliazione egli fu sottratto al giudizio. Chi potrà descrivere la sua generazione? Perché la sua vita è stata tolta dalla terra». Leununco, rivolto a Filippo, gli disse, «Di chi ti prego? Dice questo il profeta? Di se stesso? Oppure di un altro?» Allora Filippo prese a parlare e, cominciando da questo passo della scrittura, gli comunicò il lieto messaggio di Gesù. Strada facendo, giunsero a un luogo dove c'era dell'acqua. E Leununco disse, «Ecco dell'acqua, che cosa impedisce che io sia battezzato?» Filippo disse, «Se tu credi con tutto il cuore, è possibile». Leununco rispose, «Io credo che Gesù Cristo è il figlio di Dio». Fece fermare il carro, scesero tutti e due nell'acqua, Filippo e Leununco, e Filippo lo battezzò. Quando uscirono dall'acqua, lo spirito del Signore rappì Filippo, e Leununco, continuando il suo viaggio tutto allegro, non lo vide più. Cara ascoltatrice, caro ascoltatore, cara sorella, caro fratello, In questo testo che abbiamo letto dal Libro degli Atti degli Apostoli abbiamo un eunuco, un angelo del Signore, Filippo, due viaggi, il deserto, la regina d'Etiopia, la scrittura, l'acqua, il deserto, il battesimo, il cambiamento interiore. Questi sono personaggi, sono luoghi ed eventi che troviamo nel nostro testo e che io ho pensato di mettervi tutti in fila. Dopo la morte di Stefano, molti cristiani lasciano Gerusalemme e si disperdono. I cristiani soffrono di essere separati, ma la loro dispersione permette all'Evangelo di essere annunciato in nuovi territori. E anche Filippo è chiamato ad andare. E qui è chiamato ad andare in modo specifico dall'angelo del Signore che gli dice parti, vai. Dunque Filippo parte, va verso il deserto guidato dal Signore, dove incontrerà l'eunuco etiope. Ma chi è? Mi potreste dire questo eunuco etiope, ministro di Candace, regina d'Etiopia, sovrintendente di tutti i tesori di lei. E soprattutto magari qualcuno di voi mi potrebbe chiedere, ma che cos'è? Ma chi è un eunuco? Potremmo dire che è un uomo, due volte messo alla porta dalla legge degli israeliti, due volte straniero, perché eunuco e perché etiope. Etiope, dunque uno straniero, uno straniero però benestante, anzi potremmo dire molto benestante, perché è un alto funzionario della regina d'Etiopia. Candace non è il nome della regina, anche se poi Candace è diventato un nome, ma è il suo titolo. Candace è come faraone per disegnare i re in Egitto. Ed è anche quest'uomo etiope molto potente nel regno di Etiopia. E dicevo, è anche eunuco, cioè un uomo che per spiegarlo, come si spiegherebbe ad un bambino o ad una bambina, è un uomo che ha subito un'operazione, una mutilazione, che gli toglie la possibilità di avere figli, lo rende sterile e lo farà però apparire, potremmo dire, con tratti meno maschili. Però questo suo stato consente di dare sicurezza al popolo e di proteggere la regina da eventuali aggressioni sessuali. Quest'uomo, etiope eunuco, è in viaggio verso il suo paese, è un viaggio di ritorno verso l'Etiopia, dopo essere stato a Gerusalemme a lodare il Signore. Ha intrapreso un lungo viaggio, non a piedi come molti, ma su di un carro trainato perché era appunto un uomo ricco. Un uomo al quale, nonostante la sua situazione di benessere, manca però qualcosa. Il viaggio sul carro non è soltanto il viaggio fisico, il viaggio di spostamento, ma è anche un viaggio interiore, ed è questo l'aspetto del suo viaggio che ci interessa in modo particolare. Il viaggio attraverso il deserto dell'eunuco etiope non è soltanto il deserto fisico, ma è anche la metafora dell'uomo assetato, che non vede qualcosa davanti a sé, che cerca con tutto sé stesso di leggere il profeta Isaia, pur non comprendendolo, tanto da rispondere alla domanda di Filippo, mandato appunto dal messaggero del Signore, ma come potrei capire se nessuno mi guida nella sua comprensione? La dove l'eunuco etiope fatica a vedere, fatica a comprendere, comincia con l'aiuto di Filippo, che viene invitato a sedersi accanto a lui sul carro, a germogliare qualcosa di più evidente, germoglia quel seme che l'etiope sentiva di avere dentro, tanto da farlo mettere in movimento per andare a Gerusalemme a lodare il Signore. Filippo lo accompagna, Filippo lo accompagna nel suo viaggio fisico, seduto accanto a lui sul carro, ma accompagna anche la sua interiorità. Filippo mette al centro della griglia della lettura del il testo del profeta Isaia, la buona novella di Gesù Cristo. Attraverso la lettura e il criterio di interpretazione cristologico, Filippo accompagna l'etiope eunuco nel suo cammino spirituale. il cammino, il cammino che porta alla vita, il movimento, potremmo dire il movimento interiore della vita. Ed è il tempo del battesimo per l'eunuco etiope. Incontrano una sorgente d'acqua sul loro cammino e per lui diventa naturale chiedere di essere battezzato. Fa una confessione di fede semplice, chiara e profonda. Io credo che Gesù Cristo è il Figlio di Dio. Filippo e l'eunuco etiope entrano nell'acqua e Filippo lo battezza. Uscendo dall'acqua non ci sono altre parole fra Filippo e l'eunuco etiope. Lo spirito del Signore rapisce Filippo e lo porterà ad evangelizzare altrove. E l'eunuco etiope, l'eunuco etiope, cara sorella, caro fratello, continuò il suo viaggio tutto allegro. E questo è per me estremamente significativo, tutto allegro. L'incontro, il suo incontro con Filippo gli ha permesso di incontrare Cristo, di cambiare la sua vita, di abbellirla, ad impreziosirla. Nonostante il colore della sua pelle, il razzismo esisteva già, nonostante la mutilazione subita, lui è accettato da Dio. È accettato così com'è e non è una situazione consueta. Con questo racconto Luca, l'autore degli Atti degli Apostoli, vuole renderci attenti, vuole rendere attenta a te, vuole rendere attenta a me, vuole rendere attenti tutti noi che il cristianesimo, che Cristo non esclude nessuno. In un tempo in cui la Chiesa nascente si interrogava sulla sua identità, su chi può farne parte, soltanto i giudei o anche i pagani, circoncisione per tutti oppure no. Nel nostro tempo, a volte vorticoso, nel quale desideriamo rallentare, ci ha annunciato che in Cristo siamo tutti e tutte accolti. Perfetti ed imperfetti, stranieri e non, abili e disabili, traumatizzati, in ricerca, bianchi, gialli, neri, maschi, femmine, di genere fluido, in ricerca. Tutti siamo accolti. L'Eunuco etiope è il primo, potremmo dire, straniero straniero. È nero, non è membro del popolo ebraico ed è mutilato. È il primo ad entrare nella Chiesa cristiana. Non sarà l'ultimo, ma soprattutto è felice. Ha ricevuto cosa gli mancava. Lui era ricco, era importante, era considerato un uomo fondamentale nel regno di Etiopia, ma gli mancava la gioia. E questa gioia l'acquista, la gioia di camminare liberamente nella certezza di essere accolto da Dio così com'è. E tu che mi ascolti, io, tutti noi, abbiamo bisogno di stare con l'orecchio teso, accogliere la chiamata di Dio che ci fa camminare accanto agli altri, a sederci sul carro con qualcuno in un viaggio impervio, ad ascoltare, a consolare, a gioire con le persone più diverse, perché la diversità è parte di ognuno di noi, anche quando non ci pare di vederla. La scrittura ci chiede di camminare insieme per essere testimoni della buona novella. Quella buona novella ti doni e ci doni la gioia e ci faccia camminare felici, come l'Eunuco Etiope davanti al Signore. Amen. Se non ho carità, io non so nulla, vado al mio palco. Se non ho carità, recato a nulla ogni volontà. Così, Signore, lo sai, Gesù, con la vita sua faccio. Se non ho carità, io non so nulla, vado al mio palco. Non ho carità, io non so nulla, vado al mio palco. Non ho carità, io non so nulla, vado al mio palco. Così, se non lo sai, Gesù, con la vita sua qua giù Se non ho carità, io non so nulla, vado servito Non ho carità chi nel suo buscio pensa solo a sé Non ho carità chi chiude il buscio alla povertà Così, se non lo sai, Gesù, con la vita sua qua giù Se non ho carità, io non so nulla, vado servito Vi invito ora a raccoglierci in preghiera Con una preghiera tratta dalla rivista Mission Compagno di viaggio, levati i sandali polverosi Parlami dei tuoi incontri lungo i sentieri, allo spuntare dell'alba Attraverso il cammino della tenerezza Parlami di Dio che ama Compagno della terra, venuto dal continente azzurro Dal paese dei grandi laghi Dimmi come rompi l'igname Per annunciare la vita scaturita quel mattino La tua mano tesa mi ricorda che Dio ci invita all'incontro Compagno dell'eternità, le tue mani callose Il tuo sguardo sfinito si aprono oggi su un mondo da costruire Il tuo sorriso e la tua complicità Trasformano le nostre frontiere I passaggi aperti per danzare nel cuore della tenerezza di Cristo Padre nostro che sei nei cieli Sia santificato il tuo nome Venga il tuo regno Sia fatta la tua volontà come in cielo anche in terra Dacci oggi il nostro pane quotidiano E rimetti a noi i nostri debiti Come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori E non esporci alla tentazione Ma liberaci dal male Tuo è il regno, la potenza e la gloria Nei secoli dei secoli Amen Andiamo Andiamo Digno di giubbio Come gli angeli a vedere Per esaltare il suo cuore Che ci guida verso il cielo Siamo perduti Quaggiù la paura c'è stato Una luce non è questa pace al mar Ma tu sei la via, la verità La vita in santità Signor Gesù Signor Gesù Con la porta a noi Come un giorno di luminità Per laci lupi e nuore Che la sola è dignità Siamo perduti Quaggiù la paura c'è stato Una luce non è questa pace al mar Ma tu sei la via, la verità La vita in santità La nostra vita di media Come in magia, il vento e l'or Che la tua è dignità Che la sola è dignità Perché la sola è dignità Perché la sola è dignità E la sola è dignità Siamo perduti Quaggiù la paura c'è stato Una luce non è questa pace al mar Ma tu sei la via, la verità La vita in santità La vita in santità Nell'abisso Nell'abisso Che tu possa trovare il rifugio Nella prigione Che tu trovi la libertà Che la tua volontà Mi trovi e ci trovi A condiscendenti Allora sarai dinamico Muovendoti con te in ogni cosa Vedendo te in ogni cosa Perché saprò, sapremo Che tu sei dovunque Amen Avete ascoltato il culto evangelico della Chiesa Valdese La predicazione di oggi è stata curata dalla pastora Milena Martinat Allora